Benvenuti, cari amici! Ciao, io sono Costanza e ho qui vicino a me i miei compagni di viaggio in questa storia fantastica. Abbiamo Valerio, Elisa, Giorgia. Questa è la nostra rubrica intitolata C'era una volta e racconteremo una favola? Ragazzi racconteremo una favola? Sì! Ma io credo qualcosa in più, mi sa che noi inventeremo una favola, siete d'accordo? Sì! Infatti, guardate un po' cosa è successo, ho qui il mio libro delle favole. Cosa c'è scritto? Niente! Niente? Come non c'è scritto niente? C'era? Una volta! C'era una volta! Allora, apriamo il nostro bel libro perché ho intenzione di raccontarvi una storia, però sul nostro libro di c'era una volta, guardate un po' qui, che è successo? I fogli sono bianchi! I fogli sono bianchi! Come mai i fogli sono bianchi? Perché non abbiamo scritto una storia! Perché adesso dobbiamo riempirla noi e anche con il tuo aiuto, mi raccomando! Impegniamoci tutti perché dopo su questo libro costruiremo, leggeremo e scriveremo una bellissima storia. Ma voi sapete, per poter inventare una storia abbiamo bisogno di fare il nostro bel riscaldamento della fantasia e mi raccomando, dovete farlo voi, devo farlo io, devi farlo anche tu da casa, mi raccomando impegnati! Molto bene! Mi fido di voi, tutti con gli occhi chiusi, come me d'altronde! Mi vedi? Sto con gli occhi chiusi! Valerio, sei con gli occhi chiusi? Sì! Devo aprire, devo sbirciare? Sì! Elisa, sei con gli occhi chiusi come me? Sì! Ok! Giorgia, sei con gli occhi chiusi? Sì! Devo guardare? Che ne pensi? Devo guardare? Hanno davvero gli occhi chiusi! Tu cosa dici? Io ce l'ho chiuso! Cominciamo! Il nostro bellissimo riscaldamento della fantasia! Testa sulla spalla destra, testa sulla spalla sinistra, testa indietro, testa in avanti, riapriamo i nostri occhi e adesso diamo il via alla fantasia! Siamo pronti! Vi ho mostrato questo libro vuoto perché fra poco si dovrà riempire grazie alla nostra fantasia! E qui vi presento la mia Ina, la mia borsina! Guardate un po' qui! Dal suono assolutamente magico! Anche qui, come potete ben vedere, c'è una scritta! Cosa c'è scritto sulla mia borsa? C'era una volta! Vedi proprio bene! C'era una volta! Esattamente Giorgia! Questa borsa è pesantissima e piena, pienissima di cose! Oggetti! Di oggetti! Di oggetti fantasiosi! Grandi e piccoli! Sì, grandi e piccoli! E tu come fai a saperlo? Non mi dire che hai sbirciato prima! Io sì! No! Tu hai sbirciato! Allora, su! Adesso dobbiamo andare perché la fantasia l'abbiamo riscaldata e dobbiamo cominciare! È pieno di oggetti! Io non ho preparato nulla per questa storia, voi lo sapete, dobbiamo fare tutto da adesso, tutto da capo, tutto nuovo! Pescheremo un oggetto! Io non so cosa veramente, cosa voi potrete pescare, quello che prenderete, che sceglierete, sarà l'inizio della nostra bellissima storia! Allora, allora, cominciamo, cominciamo da Elisa! A te il compito! Prendi la mia borsa e pesca un oggetto velocemente! Che abbia inizio la nostra storia! Hai preso l'elefante! Mi potresti ridare la mia borsina, la borsina? Grazie, cara! Ok, molto bene! Adesso potresti darmi anche questo bellissimo elefante? Grazie! Un elefante verde! Hai mai visto un elefante verde? Io no! Però, nella fantasia, tutto è permesso! Vi presento il nostro bello elefante! Molto bene! Cominciamo da lui per la nostra storia! C'era un elefante che un giorno andò a fare un tuffo in un lago, però scoprì che non era più un lago, era diventato il mare più grande del mondo! Proprio come questo! Guardate, giratevi, guardate un po'! E tu hai visto? Quanti bei animali marini ci sono! In questo fondale, sì! Questo povero elefante, magicamente da una savana, si era tuffato in un lago che era diventato un mare! Ma può essere? No! Comunque, questo povero elefante verde, che si chiama... Lino l'elefantino! Lino l'elefantino, ad un certo punto si tuffa in un lago, ma non riesce più ad uscirne perché dal lago arriva addirittura in un mare! Vorrebbe tornare nella sua amata savana, ma non ci riesce! Nuota, nuota, nuota! Facciamo finta, ad esempio, che nuota in questo bellissimo fondale! Si appoggia su uno scoglio ed incontra un piccolo pesciolino di nome... Francesco! Di nome Francesco che gli dice, scusa Lino l'elefantino, ma tu sei un elefante della savana, ma cosa ci fai mai nel mare? E il pesciolino dice, perché sei venuto qui giù? Vorresti per caso tornare a casa? E Lino l'elefantino dice, sì, per favore mi devi dare una mano! E il pesciolino dice, va bene io ti aiuto però ho bisogno di chiedere l'aiuto a... Lui! Al mio amico... Picchio! Delfino! Al mio amico delfino! E l'elefante dice, ma per caso io voglio solo sapere, ma il tuo delfino nuota o vola? Vola! Vola! Secondo te il delfino può volare? Sì, io ti dico di sì perché nella fantasia tutto è possibile! Lino dice, va bene, allora se il tuo delfino può volare, ok! Aiutami a salire sulla groppa di un delfino perché voglio tornare nel lago della mia savana! E il pesciolino dice, è veramente sei un elefante un po' pesante, come può farcelo il delfino? Intanto Lino l'elefantino dice, va bene, tu chiamami il delfino! E arriva il delfino! Un delfino come era? Muscoloso grande! Gigante! Che si chiamava? Delfinellone! Ok! Si chiamava Delfinellone! Arriva e guarda Lino l'elefantino e dice, ehi, e tu da dove sei uscito? Animale della savana! Cosa ci fai nel mare? E l'elefante risponde, perché Perché dovevo andare a vedere nel fiume, però poi è diventato il mare più grande del mondo e mi sono ritrovata nel fondale marino. Ah, ok. Adesso ho capito, dice il delfino. Forse perché tu non sapevi che il nostro mare è magico, dal lago della savana. Se tu ti tuffi, è normale arrivare nel mare. È normale dal lago della savana arrivare nel mare? Ma diciamo nel nostro mondo della fantasia, è normale. Il delfino dice, non ti preoccupare, io sono grosso e muscoloso e ti porterò di nuovo a casa, nella savana. Però mi devi promettere qualcosa. Quando arriverai nella savana, dovrai fare qualcosa per me. Cosa potrà fare l'elefantino? Farlo, fare portare pure il delfino. A conoscere i suoi genitori. Ah, perché il delfino vuole conoscere la famiglia dell'elefantino? Sì. Molto bene, comincia questo viaggio. L'elefantino sale sulla groppa, sulla groppa, vabbè, diciamo sulla schiena del delfino. Nuotano, nuotano, nuotano e appeso alla coda del delfino. Chi c'era? Ci siamo dimenticati qualcuno? Ti ricordi chi c'era giù al mare? C'era il pesciolino. Il pesciolino? Francesco, Francesco. Ah, c'era il piccolo Francesco che, aspettate, io sono piccolo, non ce la faccio. Tutti quanti nuotano, nuotano, nuotano nel mare. Un mare magico. Ad un certo punto vanno a sbattere contro qualcosa. Era la casa dei? Elefanti. Sottomarini. Oh! Dei cavallucci marini. Mi piace, questa idea del cavalluccio marino mi piace tantissimo. Vanno addirittura a sbattere contro la casa di un cavalluccio marino. L'elefante dice al delfino, scusa, ma che cosa sono i cavallucci marini? Io non li ho mai visti in vita mia. Il delfino dice, ma è logico, non li hai mai visti tu. Non abiti nel mare. E quindi non hai mai visto un cavalluccio marino. Te lo descrivo io, come è fatto un cavalluccio marino. Come è fatto un cavalluccio marino? Spiegatelo voi. Senza la braccia. E quello là. E poi ha un becco come una tromba. E poi ha la coda lunga. Alla coda lunga. Cioè, no, la coda lunga. Come si può dire? Si, finisce con una specie di coda. A tipo il corpo a banana. Si, esattamente. E la famiglia di questi cavallucci marini si chiamava? Uccio il cavalluccio si chiamava Uccio il cavalluccio. Uccio il cavalluccio. E la moglie come si chiamava? Uccia. No, no. Uccia la cavalluccia. Uccia la cavalluccia era molto brava a fare una cosa. Cosa stava preparando Uccia la cavalluccia? Fammi sentire. Stava preparando. Una torta di alghe. Uccia la cavalluccia era bravissima a preparare torte di alghe. Arrivati alla casa dei cavallucci marini. Ma secondo voi un elefante verde amerà la torta di alghe? Secondo te? Si, perché è verde. Ecco, esattamente. Non ci posso credere, esclama l'elefantino. Hai preparato la torta di alghe. Io non conosco cavallucci marini, ma sono sicuro che la torta di alghe verde come me sarà buonissima. Dunque si fermano per un attimo. E Delfino dice, no, 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 assolutamente no. Noi andiamo di fretta, io devo riportarti nel lago della savana. L'elefante dice, ma no, io vorrei rimanere qui perché... Perché... Mi piace. Mi piace mangiare la torta a primo impatto e poi vuole rimanere nel mare perché... Ah, e quindi cosa succede arrivato a questo punto? Abbiamo il primo esemplare di elefante verde che vuole rimanere nei fondali marini? È possibile questa cosa? No. Abbiamo un elefante che vuole trasformarsi in un pesce? Sì. Ah, e qui la storia mi sa che cambia. Che ne pensi? A questo punto l'elefantino verde, mangiando la torta di alghe, beh, qui la storia cambia. Decide di rimanere sotto il mare e di trasformarsi... In un pesce. In un pesce come? In un... Mi piace, in un pesce palla perché, beh, allora se guardiamo bene questo elefante è bello cicciotto. Dunque è un elefante che si trasforma... In un pesce palla. In un pesce palla. Ecco qui. Siamo partiti niente di meno da una savana e siamo arrivati in un lago magico che ci ha portato nel mare dove un elefante, a causa di una torta di alghe, decide di rimanere nel mare trasformandosi in un... Pesce. Pesce palla. In un pesce palla. Dopo un po' di tempo, però... I genitori si stanno preoccupando. Esattamente. Ha avuto un'idea geniale. I genitori del nostro piccolo elefante dalla savana cominciano a preoccuparsi. E quindi cosa succede? Cosa vorrebbero fare? Che vanno pure loro in questo fiume magico. Era un lago? Era un fiume? Si tuffano anche loro in questo lago? Alla ricerca di lino e l'elefantino diventato un pesce palla. Nuotano, nuotano, nuotano. Poveri elefanti, mamma e papà. E dove arrivano? Iniziano a chiedere. A destra e a sinistra il mare è così grande e immenso. Passano tra i coralli. Certo, immagina un elefante che passa fra i coralli. Io credo che sia divertentissimo. Avrà praticamente spezzato tutti gli anemoni, tutti i coralli che si trovano nel mare. Comunque questo elefante, mamma e elefante papà, iniziano a chiedere e iniziano a chiamarlo. Come lo chiamano? Lino l'elefantino. Ma più forte perché altrimenti con le bolle non si sente. Lino l'elefantino. Ad un certo punto, da dietro uno scoglio, ma chi è che mi ha chiamato? Esce un pesce palla. Grande così, col pancione pieno, ma secondo voi perché? Ha mangiato la torta di alghe. Ah, ma voi siete i miei genitori? Oh mamma, oh papà. Io sono diventato un pesce palla perché amo le torte alle alghe. E però, però, vedendovi sento la mancanza della savana. Voglio tornare con voi. E adesso come facciamo? Cosa succede? Chiama il delfino di nuovo e lo trasforma logicamente in un elefante e torna nella savana. Quindi tornano tutti quanti nella savana? Sì. Ma qui per tornare tutti quanti in una savana abbiamo bisogno... Di altri delfini. Di altri delfini, di un esercito di delfini che trasportino questi elefanti che sono immensi. Però io credo che serva una formula magica perché qui se non ci sono formule magiche non si può passare dal lago al mare, dal mare al lago, dal lago alla savana. Non si può. Dunque, pensaci anche tu. Allora, giro l'elefantino, fammi ritornare nella savana perché se no io non trovo più una banana e mi mangio una banana nella mia tana. Allora, ricominciamo. Formula magica per tornare nella savana. Caro delfino, caro delfiletto, non voglio più essere un pesce palletto. Nella savana voglio ritornare... Per mangiare le banane. Per mangiare le banane e tornare nelle nostre... Tane. Tane. Nelle nostre tane. Magia, magia, magia. Nel mare c'è tanta tempesta, c'è tante bolle, tante bolle, tante bolle. La formula magica... Non vedete anche voi quante bolle? Aiuto, non senti anche tu delle bolle che ti pastano davanti al viso? Magia, magia, con questa formula magica il delfino riesce a ritrasformare il nostro elefantino in un elefante, non è più un pesce palla. E magicamente mamma elefante e papà elefante ritornano nella savana. Un bel giorno vanno a specchiarsi nel lago. E vedono dei... Vorrebbero bagnarsi ma dicono... No perché se no cadono nel mare è magico. Cadono nel mare, quindi che fanno? Immergono solo la punta della proposcite, sentono che l'acqua è fresca e ad un certo punto un guizzo dal lago. Ma che succede? Chi c'è nel lago che saluta? Francesco. C'è il pesciolino Francesco che era rimasto nel lago, poverino, non era riuscito più a tornare nel mare ed era rimasto nel lago della savana. Vi presento il primo pesciolino della storia di tutte le savane, anche nel lago delle savane, che chissà poi se esistono, ma nel nostro mondo della fantasia esistono. Vi presento il primo pesciolino della storia della savana, che si chiama Pesciolino Francesco. Bene, adesso, adesso, adesso abbiamo dato il via alla fantasia. Dobbiamo dare un titolo a questa nostra storia. Bene, molto bene. L'elefante avventuroso. Tu che ti dici? L'elefantino. Io l'elefantino. 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 Con Francesco il pesciolino. E il delfino. Che dà un aiutino? Oh, abbiamo scritto praticamente, non è più un titolo, è quasi una storia. Tu che titolo daresti a questa storia? Io avrei tante idee, loro anche ne hanno tante. Tu che idee avresti? Beh, dai forza ragazzi, dobbiamo dare un titolo a questa storia. Dobbiamo far nascere la nostra storia dell'elefantino. Allora, prego Valerio, inizia tu, comincia a scrivere. Tu volevi scrivere Lino l'elefantino. Vai. Stiamo scrivendo il titolo della nostra storia. Con la fantasia tutto è possibile. Si può viaggiare dalla savana, fare un tuffo in un lago, arrivare in un mago fantastico. E tutto sarà bello e bellissimo. Lino l'elefantino che incontra un bel delfino. Se non l'avete capito, io adoro le rime. Adoro le rime. A voi piacciono le rime? Sarei sempre a diventare filastrocche. È bellissimo. A te piacciono, Giorgia, le rime? Sì. Sì, è bello. Quindi, Lino l'elefantino che incontrò un delfino. E adesso questo lungo titolo deve avere una conclusione grazie a te, Giorgia. Lino l'elefantino che incontrò un delfino. È il pesciolino. È Francesco il pesciolino. È Francesco il pesciolino. E abbiamo parlato nel nostro titolo della nostra storia che fino a dieci minuti fa non c'era. Vero, vè? Anche tu forse avrei avuto delle idee che dieci minuti fa non avevi. E adesso ci sono altre così. Non è più un titolo, ma è quasi una piccola storia. Una storia nella storia. Abbiamo creato una storia nella storia. Ed è una cosa bellissima. No, una storia. Come ci posso dire? Un'introduzione della storia. Abbiamo fatto l'introduzione. Lino l'elefantino che incontrò un delfino. È Francesco il pesciolino. Vi saluto con una frase bellissima di Gianni Rodari. Anche inventare storie è una cosa seria. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.